L'avete riconosciuto, è Pier Giorgio Di Fredi, matematico, logico, professore universitario, grande, importante, famoso divulgatore scientifico, ha scritto moltissimi libri, voglio ricordare l'ultimo che ha scritto, Il genio delle donne, breve storia della scienza al femminile. Professore Di Fredi, grazie, buonasera. Beh, grazie a voi. Professore, lei è un uomo di mondo perché ha fatto la maturità cuneo, ho detto bene? Beh, io ho fatto tutto a Cuneo perché sono nato lì e quindi poi fino a quando non mi sono diplomato nel 69 effettivamente sono stato un cuneese. Mi ricordo molto bene, benché sia passato 50 anni ormai, 51 anni, quell'esame, anche perché era un esame molto diverso da quelli che si fanno adesso, anzitutto davamo tutte le materie e poi ci fu una cosa interessante in quell'anno, 1969, perché in primavera si cambiò la regola per l'accesso all'università. Fino al 69 si poteva andare a tutta l'università soltanto se uno era un liceale, liceale classico scientifico. Coloro che facevano gli istituti tecnici come me, geometra, potevano solo andare in certe facoltà. Io avrei potuto fare solo ingegneria o architettura, però ci fu questa liberalizzazione, quindi io decisi di fare matematica e fino a quell'anno, fino a quel momento pensavo che avrei fatto ingegneria, mi sarebbe toccato lavorare, invece facendo matematica posso fare queste cose che sto ancora facendo adesso. Vediamo questa piccola scheda che introduce per tutti noi il concetto di velocità nel Novecento, perché è su questa parola che tra poco inizieremo a giocare. Velocità, dal latino velocitas velocitatis, è la rapidità di movimento di un corpo. Interessa lo spazio e il tempo perché la velocità è tanto maggiore quanto maggiore è lo spazio percorso in un determinato tempo. Una formula semplice ma che dischiude un universo di conoscenze. Non è solo una questione di nodi, metri al secondo, miglia e chilometri all'ora. La velocità è un concetto che attraversa ogni campo del sapere e proietta l'uomo oltre i suoi limiti. Così in fisica si parla ad esempio di velocità di fuga, della luce e del suono. In astronomia si discute di velocità radiale. Ma la velocità interessa anche l'arte, dai quadri futuristi di Giacomo Balla alle tecniche pittoriche delle opere astratte di Jackson Pollock. E poi la musica, la filosofia, la letteratura e così via di sapere e insapere. Nulla le sfugge perché la velocità è parte integrante della vita stessa. Una sfida è un mito eterni. Perché l'uomo insegue la velocità? Ma non è l'uomo che insegue la velocità, è un certo tipo di uomo. In effetti dire che l'uomo insegue la velocità è una visione un po' eurocentrica dal punto di vista culturale. Oggi diremmo occidentocentrica. Siamo noi occidentali che facciamo così. Gli orientali fanno esattamente il contrario. Ce ne guardano bene dall'inseguire la velocità e addirittura a volte si guardano bene anche dall'inseguire semplicemente il movimento. Cercano di stare tranquilli. Per esempio ricordo una volta il Dalai Lama che parlando degli occidentali disse voi siete molto strani perché noi viviamo in Tibet con tutte queste grandi montagne e cerchiamo ogni volta di evitare di salire su queste montagne. Se dobbiamo spostarci passiamo per i passi più bassi e così via. Invece vi vedo arrivare qui e siete tutti lì che cercate di salire sulla punta di queste montagne. Ecco la velocità è un concetto esattamente eurocentrico proprio come diceva la professoressa poco fa. Per esempio le Olimpiadi non a caso sono nate in Grecia. Grazie professore Odifreddi. Questo è importante. Alla maturità bisogna anche imparare a utilizzare i concetti e a relativizzarli, a saperli contestualizzare all'interno della storia, del percorso culturale, della storia e delle idee. Professore Odifreddi, le voglio chiedere quale raccolta di Italo Calvino contiene il racconto Gli anni luce? Le mostro tre titoli di raccolte. Il primo Tic con Zero, il secondo le Cosmicomiche, il terzo, ultimo viene il Corvo. Professore Odifreddi. I primi due sono ambigui perché Tic con Zero è una sottoraccolta delle Cosmicomiche che agli inizi partirono con pochi esempi di questi racconti e poi man mano si allargarono. Quindi uno dei primi due. E tra l'altro sia le Cosmicomiche che in particolare Tic con Zero sono bellissimi racconti di quello che potremmo chiamare la fantascienza alta, tra virgolette. Ho sentito prima Alessandro che citava Philip Dick, che è un esempio classico della fantascienza del Novecento, uno scrittore che mi permetto di suggerirgli se già non lo conosce, che è Stanislav Lem, che secondo me è il massimo produttore di fantascienza alta, diceva che Philip Dick era un visionario fra i ciarlatani. Lui considerava la fantascienza bassa, diciamo così, appunto opera di ciarlatani, ma diceva no, Philip Dick è un visionario. E Calvino non era di quel genere, ovviamente, però faceva questo genere di fantascienza letteraria molto interessante, ispirandosi a idee scientifiche che lui leggeva sulla rivista Le Scienze Scientific American, l'ha detto lui stesso. Professore, ma in questo racconto, per l'appunto Gli anni luce di Italo Calvino, a un certo punto noi troviamo una scena piuttosto divertente, perché un uomo guarda nello spazio e a un certo punto vede un cartello su un altro pianeta con scritto ti ho visto, e poi lui gli risponde dicendo e con ciò. Questo ci racconta la difficoltà della comunicazione planetaria, interstellare. Ecco, che rapporto c'è tra velocità della luce e la nostra idea di velocità? La velocità della luce è un limite massimo, l'abbiamo scoperto naturalmente molto recentemente, dico abbiamo soltanto per metterci tutti dentro, naturalmente in realtà lo scoprì Maxwell a un certo punto e poi subito dopo Albert Einstein, è una specie di velocità limite, più di quello non si può andare, uno penserebbe che aumentando appunto la potenza per esempio di un motore oppure la velocità della corsa, si potrebbe raggiungere qualunque velocità, si potrebbe per esempio immaginare di correre su un treno, il quale a sua volta va su un tapirulano molto veloce eccetera, uno dice continua a salire alla velocità, e invece non è così, perché la somma delle velocità non è una somma lineare, non si sommano ma si sommano con un, diciamo così, con un errore che diventa sempre più piccolo e non permette di superare la velocità della luce. Allora, se siete d'accordo, io adesso chiedo al nostro cervellone elettronico, il temibile commissario esterno di prova di maturità, di indicarci su quale materia, ora proveremo a collegare la parola velocità. Commissario, accidenti, è uscita fisica, professoressa Di Raddo, il suo incubo è la maturità. Esatto, proprio fisica. Lei è riuscita a scamparla quella volta e adesso è arrivata la fisica come contrappasso. Ahimè, vedremo ricavarcela. Eh, ma ce la caviamo anche perché con noi c'è il professor Pier Giorgio Odifreddi. Allora, con fisica giochiamo con il paginone, cioè mostriamo una pagina, un'immagine relativa alla materia in questione e chiediamo a uno dei nostri ospiti di spiegarcela. Allora, dovreste vedere in questo caso le quattro equazioni di Maxwell, il grande fisico scozzese che ha scoperto le leggi fondamentali del campo elettromagnetico. Ecco, sono famigerate equazioni, incubo di tanti studenti. Professore Odifreddi, io le confesso che non sono in grado di leggerle. Lei ce le può leggere almeno una parte e spiegarci di che cosa si tratta? Innanzitutto potrei fare scena muta così, per una volta mi faccio bocciare anch'io, sono contento di farlo, lo metto nella mia carriera come una medaglia. Ma a parte quello, certo quelle equazioni non sono le più facili da spiegare. Se uno avesse preso per esempio le equazioni di Galileo o anche quelle di Newton che poi vengono subito dopo, si sarebbero capite meglio. Queste invece sono equazioni ovviamente non del 600 ma di metà dell'800 e sono equazioni dell'elettromagnetismo. Guardiamo anzitutto, naturalmente per spiegarle ci vorrebbe un intero corso, quindi possiamo anzitutto concentrarci su alcuni simboli. Vediamo che a sinistra ci sono dei triangolini, dei triangolini rovesciati. Beh, quello è un simbolo molto compatto che in realtà nasconde quello che noi chiamiamo le derivate. Le derivate sono il cambiamento dello spazio nel tempo, per esempio, questo produce la velocità, oppure il cambiamento della velocità nel tempo, questo produce l'accelerazione. E dentro quel triangolino, è un triangolino perché ha tre vertici, ci sono tre derivate lì dentro, sono le derivate delle tre coordinate spaziali, x, y e z, rispetto al tempo. Ci sono dei simboli, per esempio, E e B. Beh, quegli E e B sono due campi ed è la prima volta che effettivamente nella fisica interviene questo concetto di campo nell'equazione di Maxwell. Sono il campo elettrico, come dice la lettera E, e il campo magnetico, invece, che ovviamente è l'inizio di un'altra parola, che invece è questo B. Cioè queste equazioni mettono insieme il cambiamento del campo elettrico e del campo magnetico e lo fanno in una maniera appunto molto complessa. Professore, lei ci ha tramortito con questa emissione di onde elettromagnetiche rese possibile, tra l'altro, grazie a queste equazioni. Grazie. Grazie a voi, anzi. Ecco, no, ma rimanga, rimanga. Volevo chiedere ad Alessandro. Io a un certo punto ho notato, mentre il professore Odifreddi spiegava l'equazione di Maxwell, vedevo che annuivi, anche con un po' di piglio, insomma. Sei d'accordo con la spiegazione data dal professore Odifreddi? Di base si dice che quando un argomento si conosce davvero si è capace di riassumerlo e penso che il riassunto del professore sia molto azzeccato e preciso. Professore Odifreddi, proviamo a fare i conti con la scienza, la tecnologia e il futuro. Cioè, che cosa ci attende? Come sarà il mondo che verrà? Sarà ancora più veloce? Insomma, le chiedo una lezione sulle nuove frontiere della tecnologia. Professore Odifreddi. Beh, per fortuna c'è qualcuno che ha annunciato addirittura una legge sulla velocità di cambiamento delle tecnologie informatiche. Questo signore si chiama Moore, e ovviamente la legge si chiama legge di Moore, fu annunciata molti anni fa, decenni fa, e agli inizi naturalmente si poteva immaginare che sarebbe durata qualche anno e poi dopo ovviamente si sarebbe scontrata con i limiti fisici delle possibilità. Invece è andata avanti per moltissimo tempo. Cosa dice la legge di Moore? Dice che ogni due anni, all'incirca naturalmente, le dimensioni ad esempio dei circuiti si dimezzano, la velocità si raddoppia, i costi si dimezzano e così via. La capacità di memoria si raddoppia anch'essa, eccetera. Quindi vedete, c'è sempre questo fattore 2 che a volte divide e a volte moltiplica le risorse. E stranamente si è andati, come dicevo, avanti appunto per decenni. Io ricordo agli inizi che i computer erano delle macchine enormi che noi tenevamo in parte con dei macchinari sotto il tavolo che avevano dei grandi schermi tridimensionali e così via. Oggi abbiamo visto che cosa è successo con questi computer. Ormai ci teniamo in tasca dentro un computer, non soltanto nei nostri portatili, ma addirittura dentro i nostri cellulari, dei computer che sono enormemente più potenti di quelli che sono serviti alla NASA per mandare gli astronauti sulla Luna e a fare la discesa nel 69 e negli anni successivi. Si può immaginare che ci sia ancora un periodo in cui questa legge continui ad andare avanti. Naturalmente ci sono dei limiti ovvi. I computer non potranno mai funzionare più velocemente che alla velocità della luce, non potranno mai essere miniaturizzati più che a livello atomico, perché lì ci si deve fermare. E però c'è ancora abbastanza strada da fare prima di arrivare a questi limiti e io credo che continueremo almeno per qualche anno e forse per qualche decennio ad andare avanti in quella direzione. Professore Odifreddi, grazie per questa splendida lezione che ci ha riportato anche un po' a quella siepe, a quell'infinito indefinito di Giacomo Lopardi. Chiedo al nostro cervellone di mostrarci la terza materia con cui giochiamo oggi a prova di maturità. Meccanica, Alessandro, mi sembra che tu sia fortunato, no? Beh, è una delle mie materie, delle materie di indirizzo. Allora, vi voglio mostrare il mitico Flyer, un aeroplano con motore costruito da due ingegneri statunitensi, i mitici fratelli Wright. Al bordo del Flyer è stato effettuato il primo volumano con un mezzo motorizzato più pesante dell'aria. Il Flyer aveva un'apertura all'area di 12 metri, una massa di circa 340 kg, un motore con quattro cilindri e potenza di 12 cavalli. Il 17 dicembre del 1903 il Flyer effettuò quattro brevi voli. Il più lungo durò 59 secondi, coprendo una distanza di poche decine di metri. 59 secondi che cambiarono la storia e segnarono la nascita dell'aviazione. Professore Di Freddi, per spiccare il volo, il Flyer, quale velocità ha raggiunto e come si stabilisce la velocità di decollo? In realtà, la sappiamo esattamente, perché sappiamo che il percorso che ha fatto e il tempo che ci ha messo, ci sono stati quattro voli del Flyer. Il primo volo è stata una cosa abbastanza patetica, nel senso che ha fatto 36 metri in 12 secondi, quindi 3 metri al secondo, che più o meno corrisponde a 10 chilometri, 11 chilometri all'ora, che sono quelli che possiamo fare noi correndo, quindi insomma non è che andasse molto avanti. Nell'ultimo, quello che ha citato lei, cioè il quarto, in realtà ha fatto 250 metri in un minuto, che è un po' meglio, però sono 15 chilometri all'ora invece che 11, quindi anche 15 chilometri all'ora un maratoneta va molto più veloce, per esempio, ne fa 20 in un'ora e lo fa per due ore di seguito. Nel 1932, Tazio Nuvolari, cioè il grande pilota automobilistico, incontra il poeta e per celebrare il momento d'annunzio regala a Nuvolari una piccola tartaruga d'oro con scritto all'uomo più veloce del mondo l'animale più lento. Ecco, vi racconto questo aneddoto perché c'è un famoso paradosso formulato da un grande della filosofia come Zenone di Elea, il paradosso di Achille e la tartaruga. È un paradosso secondo il quale se il pie veloce Achille venisse sfidato da una tartaruga nella corsa e concedesse alla tartaruga un piede di vantaggio, egli non riuscirebbe mai a raggiungerla. Professore Di Freddi anche qui c'è l'infinito di mezzo ma com'è possibile questo paradosso? Ce lo vuole spiegare velocemente? Beh sì, quello era un paradosso per i greci i quali naturalmente avevano idee ancora molto confuse. Eh ma lei ha studiato a Cunio, professore, è facile per uno che ha studiato a Cunio smentire Atene. No, è facile per uno che è venuto naturalmente dopo Galileo e Newton ma il paradosso di Zenone è il primo momento in cui appunto l'infinito interviene nel pensiero umano e ovviamente gli eleatici insomma erano un po' diciamo supponenti loro pensavano che quello che non si adattava ai loro ragionamenti fosse semplicemente inesistente e il problema era che i loro ragionamenti erano sbagliati perché oggi noi non diremmo che c'è nessun paradosso se uno prende una distanza per esempio e dice prima di arrivare da una parte all'altra devo percorrere la metà poi mi rimane metà e devo fare ancora la metà un quarto poi devo fare ancora la metà un ottavo eccetera quindi per arrivare di qui a qui c'è un'infinità di somme diciamo così che devo fare va bene oggi noi facciamo le somme infinite sappiamo che un mezzo più un quarto più un ottavo più un sedicesimo eccetera fa uno e quindi non c'è nessun paradosso grazie professore Odifreddi Alessandro allora cosa ne pensi del percorso che abbiamo fatto oggi a prova di maturità partendo dalla velocità ti è stato d'aiuto quanto ti hanno raccontato la professoressa Di Raddo il professor Odifreddi ti è servito? beh per me può essere molto utile che faccio un corso molto specifico però con i collegamenti con la storia con l'annunzio con la letteratura può tornare utile anche a ragazzi che fanno altri corsi che magari vanno al liceo quindi sì mi è stato utile allora grazie Alessandro e proviamo a ripercorrere le tappe del nostro percorso interdisciplinare allora siamo partiti da Marinetti e il futurismo ci siamo immersi poi nella letteratura fantascientifica di Calvino abbiamo parlato di Leopardi e delle onde elettromagnetiche di Maxwell abbiamo parlato di Gabriele D'Annunzio e dei primi aerei fino al paradosso di Achille e la tartaruga tutto per mostrare dei collegamenti possibili tra la parola velocità e alcune materie dell'esame di maturità allora davvero io ringrazio molto la professoressa Elena Di Raddo il professor Pier Giorgio Di Fredi per essersi misurati con prova di maturità e per aver collaudato davanti ad Alessandro Bino il percorso interdisciplinare vi siete divertiti? molto l'importante è che si sia divertito lui però Alessandro tu ti sei divertito oltre ad aver imparato qualcosa? certo bene questo è anche un altro nostro obiettivo e noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo per una nuova prova di maturità buonasera grazie grazie a tutti